Ciao amici, come state? Spero tutto bene. Oggi siamo qua con un video chiacchiericcio, giusto così, per parlare, no? Visto che oggi è domenica e di domenica in estate non ci sta quasi nessuno su YouTube, ho deciso di fare tipo una sorta di vlog della domenica. Sì, è vero, ho già un canale vlog, ma su quel canale comunque ho già in mente altri video da fare, quindi... Vabbè, non è questo il momento di parlare. Diciamo che oggi voglio parlarvi del fatto che hanno cercato di truffarmi, hanno cercato di rapinarmi, di rubarmi mille euro. Ma che roba! Vabbè, ovviamente non ce l'hanno fatto, perché comunque io sono molto più furbo di queste persone. Cioè, è impossibile riuscire a rapinarmi, di rubarmi i soldi, perché io conosco ogni sistema, conosco ogni modo per difendermi da queste rapine. Ma prima di partire, lasciate qui sotto tantissimi like, iscrivete al canale con la campanella attiva e ci tenevo a ringraziare Bradetto Dieghi per aver fatto la donazione al canale. Ti ringrazio veramente per il grande supporto, ma adesso direi di partire, cominciamo! Beh dai, si potrebbe tipo cominciare una serie chiamata il vlog della domenica. Mi spiego che comunque di domenica, in estate, non ci sta quasi nessuno, quindi mettermi a fare dei gameplay, magari anche più elaborati, non avrebbe senso, perché comunque la maggior parte della gente o è al mare, o in montagna, o è da qualche parte. E non è che sono io a dirlo. Cioè, noi youtuber abbiamo, diciamo, una funzione che ci permette di vedere quante persone del nostro pubblico sono online, in base al giorno, in base alle ore. E ogni volta in estate, di domenica, ci esce fuori che non ci sta nessuno. Quindi comunque, non è che me lo sto inventando io, è youtube che mi sta dicendo appunto che di domenica non ci sta nessuno online, quindi, diciamo, posso approfittarne per fare qualcosa di diverso rispetto al solito, eccetera, eccetera. E quindi voglio parlarvi di questa mia esperienza in cui hanno cercato di rubarmi, rapinarmi, insomma, di tutto, truffarmi, le cose peggiori. E vi spiego un po' cosa è successo. Praticamente, mi è arrivato un po' di tempo fa, qualche giorno fa, un messaggio di una persona, a caso numero sconosciuto, che mi diceva, hey, stai cercando lavoro? Noi abbiamo la possibilità di dartelo. Lavoro part-time a 200 euro al giorno, per tutto il mese, no? Cioè, uno potrebbe dirmi, wow, c'è 200 euro al giorno, è tantissimo per un part-time. Tra l'altro, il messaggio era pure specificato che dovevo soltanto lavorare due ore al giorno, quindi, insomma, 200 euro per due ore al giorno. Sarebbe la cosa bellissima per tutti quanti, però, ovviamente, io sapevo che sta roba era una trofa, perché ho già fatto comunque dei lavori in passato. Ho lavorato, ho fatto dei lavori full-time, e 200 euro al giorno per un part-time è impossibile. Cioè, è... È troppo. Cioè, immaginiamo, tipo, io lavorassi per un mese intero, per 200 euro al giorno. Sarebbero 6.000 euro al mese per un part-time. È ovvio che è una truffa, è ovvio che questi qua vogliono soltanto truffarmi, mettermi nei casini, eccetera. È impossibile. Cioè, no, no, seriamente, ma penso che nessuno ci cascherebbe. È vero che comunque questi qua cercano di attirare, perché dicono, hey, noi ti diamo tanti soldi, lavora per noi, però... Cioè, chiunque riuscirebbe a capire che c'è qualcosa che non va. Tra l'altro, ecco, io vorrei mettervi il messaggio qui davanti, però io ho seriamente paura di YouTube. Perché vi racconto una cosa, cioè, che ci sono... YouTube, un po' di tempo fa, mi ha buttato giù un video di una chat horror, perché pensavo che quella chat fosse reale. Cioè, una chat horror con personaggi immaginari, secondo YouTube era una chat realistica, me l'ha buttata giù, perché secondo loro pensavano che io mi fossi cacciato in qualche guaio. Ecco, in realtà il messaggio che mi è arrivato è reale, però non vorrei mai che magari YouTube possa pensare che io stia mettendo questo messaggio per, non so, mettere nei casini altre persone, quindi io nel dubbio ho paura a metterlo, non lo metto qui davanti, soltanto per questo motivo. Ho paura di YouTube. Comunque, a parte tutto, niente, mi è arrivato questo messaggio, ma io sapevo che comunque quel messaggio lì era un messaggio scam, di cui potevo pure non fidarmi. Però ho deciso, no, di stare un po' al gioco. Ho detto, ma vediamo questi qua dove vogliono arrivare, vediamo qual è il loro obiettivo. Quindi ho risposto al loro messaggio, ho detto che sono interessato, e tra l'altro poi dopo qualche giorno, neanche subito, mi hanno chiamato. Mi ha risposto tipo un signore con un accento che si sentiva che non ero un italiano, però, a parte tutto, chi se ne importa, ho iniziato a parlarmi di varie robe, no? Eh, perché il mercato digitale sta cambiando, c'è un'evoluzione, no? E io, sì, sì, va bene, va bene. Ero lì che sentivo un po'. Cioè, una cosa mi entrava da un orecchio, da un'altra parte poi mi usciva. Quindi è che stavo lì a sentire proprio in modo attento, no? Anche se in realtà mi sarebbe piaciuto. Tra l'altro, ecco, sarebbe stato bello aver registrato sta chiamata. E niente, la prossima volta vi prometto che se mi chiameranno altre persone di questo tipo, registrerò la chiamata. Perché, sai, sono veramente molto divertenti. Io alcune volte rispondo a queste chiamate così, a queste chiamate spam. E li prendo sempre in giro, li trollo sempre in maniera assurda. La prossima volta vi prometto che li registro. Comunque, ritorniamo al discorso di prima. Questi qua mi chiamano. Eh, pronto, sì, sì, eccetera. Il mercato digitale sta cambiando, ma noi abbiamo la possibilità di farti avere tanti soldi. E io, wow, ma che bello. E datemi di questi soldi, no? Però c'era un problema. Eh, ovviamente, no? Perché questi qua non è che regalano soldi a caso. Io avrei dovuto pagare mille euro. Avrei dovuto dare mille euro a questa gente per dire, eh, sì, sì, tu usci dei mille euro, ma non ti preoccupare, perché poi, se tu guadagni 200 euro al giorno, nel giro di cinque giorni li hai già recuperati. Giustamente il calcolo matematico è giusto. 200 euro al giorno, cinque giorni, li ho già recuperati. Però questi qua, ma figuriamoci se mi davano 200 euro al giorno. Ma figuriamoci. Tanto è che ho detto, va bene, e vi do sti mille euro. Fatto sta che, dopo due giorni, gli ho detto, gli ho mandato un messaggio, in realtà non gli ho dato mille euro, già sapevo che era uno scam. Quindi figuriamoci se vado a dare mille euro a sta gente che neanche conosco. Non mi hanno detto niente, cioè neanche il nome alla loro azienda, partita IVA, proprio niente di niente. Gli faccio, uè, ciao, vi ho dato mille euro, adesso che facciamo? E io glielo ho detto tramite messaggio, che le ho chiamate, le ho detto così, ho pagato, ho effettuato il pagamento di mille euro, adesso che facciamo? E il tizio mi fa, ok, abbiamo ricevuto il tuo pagamento, adesso ti ricontatteremo per fare quello che... vabbè, per il lavoro, eccetera. Questi non si sono fatti vivi, non mi hanno detto niente, niente di niente. Quindi è ovvio che era una truffa, cioè... Io per fortuna non gli ho dato niente, cioè mettiamo in caso qualcuno fosse cascato in questa truffa qua e avesse realmente pagato 6.000 euro, sarebbe rimasto veramente fregato, perché comunque questi qua poi sparivano nel nulla. Quindi fate molta attenzione, se vi arrivano chiamate di questo tipo, se vi arrivano messaggi che vi promettono soldi lavorando veramente poco, non credeteci. Cioè è soltanto gente che vuole soltanto prendere i vostri soldi, ecco. E quindi niente, questa era la mia esperienza. Però veramente la prossima volta mi piacerebbe registrare un'esperienza di questo tipo. Non so, magari mi chiamano, no? Io rispondo. Fidatevi! Cioè veramente devi divertirsi, perché io li prendo veramente un sacco in giro. Tipo una volta mi sono finto uno che è un bambino, no? Io ho proprio fatto la voce da bambina. Ehi, ciao! Adesso sono qua che sto giocando! Proprio con sta vocina qua. Altre volte invece mi sono inventato altre situazioni inimmaginabili. Però la prossima volta tenetevi pronti, perché sarebbe veramente molto bello. Comunque, a parte tutto, quello che volevo dirvi anche prima, fate molta attenzione quando qualcuno vi contatta. Se uno vi dice che vi vuole promettere soldi tipo 6.000 euro al mese senza fare nulla, figuriamoci, cioè, non credetegli, perché vuole soltanto prendervi dei soldi. E boh, niente altro da dire, non ne ho in questo momento. Era il vlog della domenica, quindi spero che abbiate passato una bella giornata. Se siete stati al mare, buon per voi, io sono qui in Germania, quindi il mare lo trovo al nord, mare del nord. E quindi, niente, vabbè, lasciamo perdere. Meglio che lascio perdere. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto il braccio, spolliciate, così si vedete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Non ci vedete al prossimo video e come sempre vi auguro non so più parlare, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!